L'idea che quando si è a dieta si mangi di più nasce dal fatto che si è più attenti a ciò che si mangia. Anche andare a fare la spesa, cucinare, preparare gli alimenti per il pranzo implica una maggiore attenzione e concentrazione su ciò che si mangia, quindi la presenza del cibo ordinato e studiato in un modo equilibrato ci dà l'impressione di mangiare di più perché siamo più concentrati su ciò che mangiamo. Questo non è vero o meglio, a volte mangiamo molto prima di fare una dieta senza rendercene conto perché non consideriamo nella dieta tutto ciò che mangiamo fuori pasto e quando andiamo a raccontare al medico, al nutrizionista quello che mangiamo omettiamo un po' consapevolmente, un po' inconsapevolmente tutta una serie di errori o di trasgressioni che però non rientrano nel nostro schema mentale nell'abitudine regolare relegata agli orari dei pasti, quindi è difficile pensare che si mangia di più durante una dieta, probabilmente si è un pochino più ordinati e attenti a ciò che si mangia.